No Bene, ovviamente è sabato e ovviamente siamo qui al Tommy All'interno del Scott Calibi, il sabato più cool della capitale e non posso che incontrare il mio amico Ma ragazzi, ma ragazzi, ma lei è esagerato Allora, il mio amico, il grande direttore del sabato del Tommy, Massimo Marzotta, come stai? Bene, grazie, vedo che anche voi tutti stai di da forma Beh, ci proviamo Allora, raccontaci un pochettino Di settimana in settimana questo Tommy si fa sempre più ricco, cose nuove E addirittura questa sera vedo che state offrendo un sacco di prelibatezza ai vostri clienti È un Gold Chocolate Party Quindi abbiamo un DJ Svizzero Sai, quindi la Svizzera, la cioccolata Abbiamo pensato di fare questo abbinamento Ogni sabato vi sembra in realtà diverso? Assolutamente sì Per cui l'animazione cambia sempre Abbiamo spettacoli sempre diversi, originali Le nostre serie sono originali I gadget sono pazzeschi Perché abbiamo avuto delle magliette favolose E regaliamo soltanto Noi regaliamo sempre Questa la voglio È bellissima E la avrai, lo sai Grazie È bello vedere anche Che a Roma ci sono situazioni veramente di livello Come i grandi locali, non so, dell'America Latina o altrimenti spagnoli Perché si parla sempre di locali di Ibiza, di Palma Ma poi ci sono anche situazioni a Roma altrettanto belle e altrettanto lavorate Tipo il Tommy Guarda, noi cerchiamo veramente la sperimentazione e il nostro diktat Per cui cerchiamo sempre cose nuove, cose diverse Cerchiamo di guardarci intorno, guardiamo nel resto del mondo Per cerchiamo di proporre qualcosa di originale E poi come dici sempre tu Finché questo lavoro lo ami, finché ti piace lo farai Assolutamente sì Finché mi diverto e finché ci divertiamo Ed è questo il segreto del Tommy Andiamo avanti E allora viva il Tommy Tommy forever Lui spesso e volentieri mi sostituisce E forse è anche più bravo di me in giro a fare interviste Oggi un look molto molto particolare Complimenti Raccontaci un po' questo Tommy visto dal palco Allora, il Tommy visto dal palco è stupendo Perché? Perché i Tommy People aumentano di sabato in sabato Quindi diventiamo sempre di più Abbiamo un pubblico molto molto caloroso A parte poi abbiamo vari contatti Facebook, Twitter Quindi comunque ci teniamo in contatto anche durante la settimana Quindi c'è un rapporto continuo Il sabato raggiunge il culmine Quindi con lo spettacolo La dimostrazione di affetto che sono qui dal vivo Poi siamo molto in contatto noi con il nostro pubblico Che spesso poi diventa protagonista nelle nostre serate E questo è proprio il nostro principio fondamentale Una cosa che ovviamente ho visto E che mi fa molto piacere Ma si vede, la trasmettete E che anche voi dall'assù dal palco Vi divertite insieme alle persone Assolutamente sì Questo è il bello A volte vengo qua e ho la sensazione Non sto andando a lavorare Sto andando in discoteca Sto andando a ballare Si vede molto Quindi poi saliamo sul palco Ovviamente poi ti rendi conto Sei là, devi essere concentrato Ma capito anche degli errori a volte sul palco Per quanto stiamo a casa Per quanto stiamo a nostro agio Però ormai è diventata veramente una grande famiglia Una famiglia artisticamente molto molto giusta Che devo dire Io ti lascio perché so che tra un pochino Ci farà impazzire E noi saremo là sotto naturalmente A ballare insieme alle centinaia di persone del top Ci salutiamo dopo Ciao Ciao grandi Tommy Knight Il sabato dell'alibi Alla prossima Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti